Buon pomeriggio. Allora, ieri c'è stata la conferenza stampa dell'allenatore. Io direi salto di qualità infinito. Finalmente il Lucarelli che io ho sempre ricordato e il Lucarelli che ha preso delle decisioni importanti e che ha detto cose molto belle. Io sono rimasto affascinato dal fatto che Lucarelli voglia essere il terzo allenatore della Ternana a portare la Ternana in Serie A. Questa è una cosa bellissima. Quando succederà non è importante, ma sapere che Lucarelli vuole fortemente portare la Ternana a un risultato di eccellenza è bellissimo. Lucarelli secondo me ha avuto una maturazione fantastica e il prossimo anno vedremo un campionato molto bello. Principalmente lo vedremo di carattere. Grazie Lucarelli.